E' in atto oramai da anni la crisi del modello tradizionale di ospitalità alberghiera romagnola basato sulla pensione completa. Ci ha pensato la mezza pensione prima ed il bread and breakfast poi ad eclissare il mito dei tre pasti in hotel preparati dalle mogli e dalle madri dei titolari. La società ariminese di consulenti per il turismo Teamwork precisa che il servizio legato al cibo e le bevande copre oggi circa il 15% del fatturato degli hotel, mentre all'estero arriva fino al 40%. Non è che un albergo che funzionava 20, 30, 40 anni fa è destinato a funzionare e avere successo in eterno. I clienti non vogliono più comprare un pasto obbligato con la comanda e l'ordine alla sera prima ma vogliono vivere delle esperienze anche legate al cibo, legato alla tavola. Se per gli esperti da un lato è ora di celebrare il funerale della pensione completa, dall'altro questo momento storico può rappresentare l'occasione per rivoluzionare il proprio modello di business. Dopotutto i viaggiatori contemporanei hanno esigenze sempre più variegate. Quanto è difficile introdurre innovazione nel sistema alberghiero italiano e quello romagnolo in particolare? È molto difficile perché le abitudini ci portano a crearci una nostra comfort zone. Ci troviamo di fronte a dei consumatori che hanno provato tante altre esperienze di vacanza in giro per il mondo e vogliono trovare cose nuove e originali anche nella nostra località. Non c'è nulla di virtuoso nel fare le stesse cose nello stesso identico modo.